registrazione avviata grazie segretario buongiorno segretario buongiorno colleghi buongiorno dottore di canci segretario la prego di chiamare l'appello di presenza cancilla buongiorno presenza di pisa presenza buongiorno a tutti presenta orlando presente randazzo pronto si randazzo presente in zavillo presente presidente 5 su 5 verificato il corno strutturale dichiaro aperta la seduta oggi 28 agosto alle ore 9 e 43 buongiorno benvenuto al dottore di cancio alla dottoressa cali ai quali chiedo come da prassi l'autorizzazione alla videoregistrazione lara non ti si sente si è contento grazie lara è il microfono spento microfono mi senti ora adesso si ok va bene poco fa ero sul pc di analisa ma analisa non c'entra niente allora oggi attendiamo per la rap a comprare partecipa la dottoressa cali l'ufficio traffico il dottore di cancio stiamo attendendo la collegamento dell'assessore catania per parlare di spazzamento meccanizzato e quindi di arrivato all'assessore catania mi sa buongiorno assessore giusto il microfono disattivato scusate ma non riusciva a collegare buongiorno assessore come va il consuetudine le devo chiedere l'autorizzazione alla videoregistrazione grazie lei ci sente intanto perfetto allora nasceva oggi l'esigenza di convocare l'assessore catania e i vertici di rap e il dottore di canci al seguito di una commissione che ha visto coinvolto il direttore licaosi al quale ovviamente chiedevamo spiegazioni perché il servizio di spazzamento non venisse fatto il servizio di spazzamento meccanizzato non venisse fatto in maniera adeguata a seguito poi tra l'altro di dell'acquisto del noleggio delle spazzatrici il direttore licaosi ci spiegava che aveva chiesto l'ordinanza di visualizzare il traffico per i dividi di sosta per far passare le spazzatrici ma purtroppo queste ordinanze non erano non arrivato abbiamo visto che è stata fatta una il 26 agosto dove viene specificato che la rap fa richiesta all'ufficio traffico dal 2017 nel 2019 a distanza di due anni sembra che si si muove a colpa di cora non ricordo bene però lo posso prendere allora la rap con note eccetera eccetera il primo settembre 2017 chiedeva al comando di polizia municipale all'amat di palermo una fattiva collaborazione per poter avere un processo di ottimizzazione del servizio di spazzamento destinato a maniera sensibilmente il livello di polizia delle strade cittadine a seguito di successivi delle produzioni l'amat palermo e il seppia comunicava in data 7 novembre 2019 la necessità di avviare un nuovo un tavolo tecnico necessario all'adattazione delle procedure di competenza allo stesso in ufficio la società rap con me dal 7 novembre 2019 non trava in allegato alla precedente per i conseguenziali della produzione i nuovi tenere di spazzamento eccetera eccetera intanto apprendo da questa ordinanza e mi fa piacere che quest'ordinanza eh diciamo abbia sia arrivata finalmente a distanza di quasi tre anni e probabilmente sarà stata una coincidenza ovviamente ma diciamo quantomeno sembra che si stia iniziando a fare qualcosa volevamo capire ovviamente quali fossero le difficoltà perché non venivano fatte queste ordinanze e non non si dava seguito a queste a questo a questo servizio abbiamo visto che con l'ordinanza comunque di questo ovviamente chiederemo chiediamo felicitazioni alla rap e all'assessore diciamo anche ovviamente nella competenza perché è una strada inserita strada che riguardano praticamente solo esclusivamente il centro e non si fa completamente che riguardano la periferia eh sono strade interessate sono otto itinerari interessati che interessano soltanto l'ottava e parte della prima circoscrizione eh almeno orientativamente oltre tutte le strade che riguardano il centro poi ovviamente prenderanno porzioni della quinta che sappiamo ovviamente che le circoscrizioni hanno un ambito molto vasto tipo l'ottava e la quinta ma le librerie non venivano totalmente interessate quindi chiedevamo al dottore di canto all'assessore che io ovviamente voglio intervenire perché eh si è perso tutto questo tempo e non si è dato seguito diciamo a questa richiesta di rap che arriva comunque ad aprire un'interlocuzione arriva dal 2017 quindi eh sicuramente ci avranno dei motivi ma ovviamente è importante che vengano resi noti al fine di eh evitare strumentalizzazioni da parte di di questi progetti quindi non faccio seguito di canto l'assessore e mi scusi assessore se lo interrompo mi chiedo che le chiedo perdono e c'è il signor Sebastiano Signo che deve prevedere lo consenso della registrazione e questo all'ufficio sta pre è presente Deve attivare il microfono signor Sino Salve buongiorno Buongiorno Mi sentite? Adesso si Sì sono un responsabile dei centri comuni di raccolta della RAP intervengo in materia di centri comuni di raccolta buongiorno Grazie ci deve dare l'autorizzazione alla la videoregistrazione una una prassi che dobbiamo necessariamente fare. Sento il mio consenso. Grazie prego assessore. Grazie a voi. Grazie presidente e ringrazio per questa convocazione per tutti i soggetti necessari a fare chiarezza a questo punto vorrei fare una premessa ad obbligo la vicenda è molto molto complicata giusto perdonami si sente malissimo io mi sento bene ho un attimo ho un problema di collegamento ma non fa piacere che ti senti bene però ti sentiamo male come mi sentite adesso io ho qualche problema di collegamento sentiamo distante mi posso mettere la cuffia un attimo solo vediamo se funziona un attimo solo adesso va meglio? Sì 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 allora ti ringrazio presidente per avermi per aver convocato questa riunione che è molto importante ed è utile che ci siano tutti i soggetti coinvolti perché la vicenda è una vicenda che coinvolge pezzi dell'amministrazione tanti pezzi dell'amministrazione diversi uffici diverse partecipate e quindi già questo denota la complessità della della vicenda tu hai parlato di duemiladiciassette io non ho memoria del 2017 nel senso non facevo l'assessore sicuramente sarà così se è scritto all'ordinanza ma io non ho memoria non ho memoria del 2017 non credo che addirittura la vicenda sia così però nessun problema né io facevo l'assessore né il dirigente del servizio quindi però la vicenda in ogni caso è una vicenda annosa perché eh a mia memoria già nel novembre del 2019 eh la rap fece eh mandò gli all'ufficio al comune all'amministrazione comunale eh gli itinerari meccanizzati per dire che aveva già dimostrando che aveva già avviato il percorso e che era pronta ad acquistare ad affittare i mezzi per fare il spazzamento meccanizzato da quel momento si è aperta un'interlocuzione molto positiva con tutti gli uffici eh dell'amministrazione in quella fase io avevo la delega anche ai rapporti funzionali eh con la rap e quindi è stato diciamo è la competenza di fatto dei dei miei uffici trasversalmente e abbiamo fatto tre o quattro riunioni con eh i vertici di rap eh erano presenti sicuramente ho visto che c'era Giovanni Acquaviva che era presente alla riunione ho visto che c'è Lara Calì che ha partecipato anche a qualche a qualche la dottoressa Calì che ha partecipato a qualche a qualche riunione eh quelle riunioni avevano l'obiettivo di evitare che le ordinanze del comune rimanessero carta straccia perché il rischio è questo diciamoci la verità cioè non basta fare l'ordinanza eh l'ordinanza deve essere attuale e l'attuazione di questa ordinanza è un'attuazione molto molto complicata perché coinvolge diversi settori dell'amministrazione comunale perché eh fare se tante itinerari meccanizzati mettere il diritto di sosta in in migliaia di strade della città dal punto di vista eh della della realizzazione non è non è una 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 cosa che si fa immediatamente e quindi abbiamo concordato in quella sede e in quelle sede in quelle numerose riunioni che due tre quattro riunioni che abbiamo fatto con alla presenza di RAP di AMAT della polizia municipale eh perché vorrei ricordarvi la polizia municipale la polizia municipale deve garantire che venga effettuato il il divieto il divieto di sosta l'AMAT deve mettere la segnaletica e in più deve eh mettere a disposizione il la rimozione i mezzi per la rimozione del delle automobili eh abbiamo concordato che invece di partire su tutta la città sarebbe stato meglio partire su porzioni di città e individuare e stabilire un cronoprogramma di attività eh con una scade con una scansione in modo tale da mettere a regime il il percorso eh e siamo già arrivati a febbraio fine febbraio del duemilaventi quindi dal novembre del duemiladiciannove a febbraio del duemila del duemilaventi a febbraio duemilaventi eh RAP ha mandato eh il primo itinerario che riteneva utile far partire che in realtà coinvolgeva una porzione ampia di città perché eh l'ottava circoscrizione non è il centro della città o meglio non è solo il centro della città l'ottava circoscrizione è la circoscrizione con più abitanti e la circoscrizione con più attività commerciali è una circoscrizione che coinvolge quartieri diversi della città anche quartieri periferici penso eh Regina Maria, Renella, il quartiere Montepellegrino quindi diciamo aveva una caratterizzazione questo primo itinerario particolarmente particolarmente complessa sia in termini geografici che in termini sia in termini sociali e anche era come dire una prova importante per per l'azienda eh eh nell'attuazione dello spazzamento ma è una prova importante anche per Amat e Polizia Municipale che dovranno garantire un servizio eh di per rendere efficaci le ordinanze eh l'ordinanza l'ordinanza è pronta eh da marzo poi diciamo come tutti sapete eh l'impiego della Polizia Municipale di RAP e di Amat eh l'avvio in alcuni settori anche della della cassa integrazione anche per per alcuni lavoratori cioè l'avvio del lockdown di fatto ha bloccato eh la partenza di questa eh di questo eh primo itinerario meccanizzato ehm a giugno eh avevamo dopo la fine del lockdown diciamo avevamo cominciato a riprendere la situazione ma eh l'avvio dell'estate le ferie della Polizia Municipale cioè il servizio rischiava di non essere la quando deve partire un'attività di questo tipo deve partire bene e c'eravamo ripromessi che a settembre sarebbe partita eh con tutti i crismi con la Polizia Municipale in servizio effettivo con il eh l'amat in grado di garantire la rimozione delle automobili e di posizionare la segnaletica in tutte le strade perché diciamo il lavoro di posizionamento della segnaletica è un lavoro particolarmente particolarmente duro io penso che sarebbe stato diciamo ipocrita e non efficace fare partire contemporaneamente tutti i 70 itinerari perché sarebbe significato non di fatto non attuarlo eh ritengo che la partenza graduale eh partendo da un fetta importante e grossa della della città possa essere il primo segnale per per il nonno di l'itinerario meccanizzato nel frattempo come voi sapete la delega ai rapporti funzionali con la RAP non è più nelle nelle mie competenze e quindi di fatto il compito di coordinamento delle attività eh non 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 è più in capo non è più in capo al al mio assessorato ma eh ci siamo semplicemente limitati con con gli uffici e con le incigliere di gangi a emettere a emettere l'ordinanza eh così come avevamo concordato coi tempi con con le aziende con la polizia municipale e e ho fatto già una riunione eh anzi il giorno primo ho fatto la riunione prima di mettere l'ordinanza perché eh mi sono garantito che Amat già dalla prossima settimana cominciasse a a procedere alla al posizionamento della segnaletica che è un passaggio necessario per eh per avviare questo percorso io credo che parte facendo partire questi itinerari eh nel corso del tempo ma questo lo dirà RAP credo che non ci sanno non ci sarà problema da questo punto di vista facendo avviando questo percorso eh sarà poi gradualmente il processo che sarà concordato tra RAP e l'assessorato eh l'assessore Marino che è l'assessore che ha i rapporti funzionali con la RAP il i nuovi itinerari che di volta in volta saranno saranno attivati vorrei sottolineare un aspetto eh la cosa importantissima nel 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 ed è questo è stato sottolineato da tutti eh siccome io sono abbastanza vecchio e ricordo quando è stato fatto il il lo spazzamento meccanizzato eh vent'anni fa nella nostra città eh la cosa importantissima è stata l'efficacia l'efficacia del 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 provvedimento cioè sono state posizionate è stata posizionata la segnaletica ovviamente il divieto di sosta non è stato rispettato da tutti i cittadini da tutti i cittadini e le cittadine palermitane ma è stato un servizio efficace di rimozione delle automobili che ha consentito alle spazzatrici di operare ecco se non partiamo col piede giusto e quindi con la possibilità di rendere efficace le ordinanze il rischio concreto il rischio concreto è che fallisca tutta tutta l'operazione quindi eh se da novembre da un lato il lockdown da un lato le ferie estive quindi passiamo partendo a settembre del duemilaventi quindi per quel che mi riguarda con dieci mesi di ritardo sul in realtà non sono dieci mesi perché come come vi ho detto le ordinanze sono pronte da novembre da 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 febbraio da febbraio di quest'anno dopo che avevamo definito definito il percorso diciamo il ritardo è dovuto soprattutto a lockdown ed è ed è stato funzionale al fatto che è necessario partire bene perché se arriviamo in una strada mettiamo il divieto di sosta e il divieto di sosta non viene rispettato e non c'è un servizio adeguato di polizia municipale di amat che deve fare la la rimozione delle automobili rischiamo di verificare tutto il processo nella sua complessità quindi io credo che adesso invece dopo aver fatto le riunioni aver stabilito il la modalità di avvio ci siano tutte le condizioni per per partire bene a partire da dal mese di settembre così come avevamo preventivato prima prima dell'estate tutto qua io spero di essere stato chiaro nella nella mia espressione prende direttamente la parla tu assolutamente si grazie al sottore lei è stato stato chiarissimo come sempre io ho guardato diciamo di nuovo l'itinerario che è stato fatto mi comporta il fatto ovviamente che lei sta mi è sembrato di capire perché purtroppo però mi è sembrato di capire che questo ovviamente è l'avvio di un di un percorso che poi riguarderà tutta la città quindi si è deciso a mio avviso errando diciamo questa decisione non è stata secondo me opportuna perché comunque le strade che sono coinvolte in questo primo itinerario sono strade che normalmente vedono la presenza di un operatore ecologico si poteva proprio per evitare di sentirci dire sempre le periferie sono abbandonate eccetera eccetera potevamo questa volta iniziare proprio dalle periferie per dare un segnale diciamo proprio di di attenzione verso l'altra parte della città ma questo ovviamente presidente da qualsiasi posto si cominciava c'era sempre qualcuno che diceva che non andava bene ovviamente però su questo sono perfettamente d'accordo con te quindi diciamo il tema non è però magari il tema è quando finiamo e dove finiamo ecco sì no era secondo me dico penso che ripeto in questo percorso non sono assolutamente trascurate le periferie perché se guardate bene i percorsi ci sono molti quartieri periferici che sono coinvolti della dalla io ne ho guardati percorsi e quartieri periferici in realtà non ne vedo a parte diciamo via miraglio rizzo solo solo intendiamo quartiere periferico dico poi diciamo questa è la parte più esterna diciamo che riguarda l'itinerario perché poi vediamo tutto ovviamente il salotto di palermo via isidro la lumia eccetera tutte le vieticine che avevo foscolo e tutta la parte di via libertà diciamo di periferico io vedo ben poco ma comunque non è questo non non intendo assolutamente fare nessun tipo di polemica io siccome faccio parte della maggioranza e voglio evitare ovviamente che la gente parla ma comunque ovviamente come diceva l'assessore parlerà comunque però per una volta sarebbe stato più opportuno dare un segnale alle periferie a maggior ragione che queste comunque queste strade che vediamo interessate in questo pieno di erario normalmente comunque non hanno una situazione devastante come quella che si vede nelle periferie quindi questo è un mio pensiero però dico fermo restando che sono e comunque contento che questa commissione forse magari sarò presuntuoso ma credo che forse ci sia comunque una correlazione tra questa convocazione e l'ordinanza che è stata emanata l'altro ieri ma comunque probabilmente ripeto sarò presuntuoso non sarà così ma era già nelle cose però il fatto già che stiamo iniziando comunque a provare a dare un più decoro a questa città questo comunque già mi rallegra mi auguro ovviamente che perché parliamo del mese di settembre il mese di settembre ovviamente è fatto da 30 giorni mi auguro che possa partire il prima possibile mi auguro che sia un'operazione che possa vedere i suoi frutti e che possa essere coordinata che mi rendo conto che non è facile come diceva l'assessore Catania un'operazione di questo tipo soprattutto in una città che non è abituata comunque ad avere delle regole così restrittive e quindi dobbiamo ovviamente fare fronte alla mentalità di noi palermitani che sicuramente all'inizio avremo qualche difficoltà come in tutte le novità ovviamente che vengono poste in questa città quindi mi auguro che questo intervento possa essere da apripista e che si possa attuare in tutto il resto della città. C'erano interventi da parte dei colleghi o altrimenti diamo la parola alla dottressa Catania? Sì Gianluca io solo vorrei dire una cosa brevissima dico penso che sia importante da parte dell'amministrazione anche dalla RAP dare un segnale importante alla città rispetto diciamo a questa pulizia che abbiamo la straordinaria delle strade anche perché non ci dobbiamo dimenticare. No Roberta scusami scusami Roberta io credo che non stiamo parlando di pulizia straordinaria ma parliamo di ordinario. Assessore riconforti su questa cosa. Sì però non parliamo di straordinario giusto? Assolutamente dovrebbe essere una cosa assolutamente ovvia fatta con una certa periodicità. Adesso la dottoressa Calica chiarirà certamente tutta la Sì ma infatti speriamo che poi appunto si mantenga questo tipo di servizio chiaramente diciamo nel tempo però quello che volevo sottolineare è che purtroppo quest'estate si è assistito a un di nuovo un ulteriore degrado delle strade cosa che si verifica appunto quasi puntualmente nel periodo estivo accumuli di rifiuti ovunque quindi dico venendo poi tra l'altro dall'approvazione di un contratto in consiglio della RAP per i prossimi 15 anni diciamo è stato un dato che un pochettino è stato preoccupazione da parte di tutti quindi per questo penso che sia proprio necessario dare un segnale rispetto a un ritorno a un decoro delle strade cittadine. Tutto qua grazie. Grazie Roberto. Se non ci sono altri interventi io darei la parola allora dottoressa che lì o allora? Luca salve. Va ovviamente tutto quello che è a favore della cittadinanza sono integrazioni, evoluzioni, non può che trovare, trovarci favorevolmente, non può che essere, non possiamo che essere favorevoli, però ovviamente il tutto viene sempre annunciato in pompa magna come se parliamo di di chissà che cosa quando in realtà stiamo chiedendo soltanto la normalità. Quello dello spaziamento è semplicemente una normalità che è prevista fra l'altro nel nel nella taria inserita all'interno del fesso e poi qualcuno mi potrà dire che è inserita all'interno del fesso ma la RAP non ha la difficoltà in termini di personale. A me tutto questo può stare bene fino a un certo punto ovvero se la RAP ha come so e ne sono consapevole difficoltà a organizzare questo servizio di spaziamento le cose sono due e sarò crudo o lo diamo a qualcun altro se la RAP non è più in condizione di farlo o mettiamo la RAP in condizione di farlo ovviamente sono per la seconda ipotesi. Pensavo fosse per la privatizzazione del servizio. Assolutamente no. No, 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 ho capito male. Sa bene Assessore che stava parlando per il pubblico. Mi ero stupito di questa sua formazione. Come? Mi ero stupito di questa sua formazione. No, no, assolutamente. Infatti mi volevo agganciare alla Reset. Io volevo capire a che punto siamo con questo. È vero che l'Assessore, la deleghe Sergio Marino quindi magari è una risposta o una domanda che non posso fare in questo momento però lo chiedo magari lei ha informato Assessore. Capire come sta procedendo questo passaggio dei dipendenti pubblici della Reset alla RAP. Io sono sono rispettoso sono rispettoso dei ruoli istituzionali. Ho detto ho detto in questa sede che all'inizio stavo coordinando io questa attività perché avevo la doppia. Quindi sono molto rispettoso dei ruoli istituzionali e quindi adesso certamente l'Assessore che ha la delega funzionale rapporti con la RAP e sarà quando volete. No, te lo chiedevo sapere io questa informazione. So bene che sento la persona che deve dare di fatto. E anche se io avessi queste informazioni non sarebbe corretto che li fornissi formalmente visto che non è compito mio. Va bene? Condivido e comprendo soprattutto. L'unico aspetto a me sarebbe, l'ho già detto, l'ho già detto pubblicamente, ho anche compreso la risposta del Presidente della RAP. Però io voglio che questo piano venga reso trasparente e pubblico rispetto alla città. Questo sullo spazzamento meccanizzato è stato reso pubblico alla città e su tutti i giornali. E va bene, però che tutto il resto venga reso nuovamente pubblico e ripubblicato. Con quelle che sono le difficoltà e che sappiamo. Eh o quantomeno sapere eh attualmente cosa viene fatto e dove viene fatto. Io questo lo non solo pretendo. È previsto nel nuovo contratto che abbiamo eh votato il 7 luglio. Quindi su questo vi chiedo uno sforzo e un impegno sapendo che ci sono delle difficoltà e da parte della RAP che sono certo che con il supporto della Resist che a breve arriverà eh mi auguro e con questa nuova procedura meccanizzato di risolvere. Grazie. Grazie consigliere Randazzo. Presidente. Prego Carlo. Allora eh io eh ho seguito la stessa catena con attenzione e mi convince tipo io sono convinto che che da da settembre qualcosa cambierà in tal senso per per la per la spazzatura questa come dire spicciola tipo questa il foglio di carta la cicca di sigaretta però però resta ma ma non è il tema di oggi probabilmente resta quello degli ingombranti che è una grande piaga perché sembra che che ci sia una fabbrica di ingombranti che tutta questa fabbrica di ingombranti abbia deciso di di andare nella città di Palermo perché qua e là in ogni angolo della città della città sia centrale che non si assiste al al fenomeno di deposizione ingombranti così tipo ma ma così alla grande proprio quindi questo secondo me questo problema di qua da come da quello che dice la stessa catena secondo me sarà sarà quantomeno in via di inizio di risoluzione poi resta quest'altro problema solo questo volevo dire grazie consigliere di vista così ero Orlando vuole intervenire altrimenti diamo la parola alla dottoressa Cali buongiorno grazie intanto di averti invitato io sono collegata insieme siamo insieme quindi con lo stesso schermo con Giovanni Acquaviva a cui io tra un po' darò la parola per quanto riguarda tutta la parte di dettaglio visto che fondamentalmente il piano è nato con lui Acquaviva si è fatto le tutte le riunioni come diceva l'assessore Catania e ha organizzato poi tutti gli itinerari volevo solo dire una cosa io sono contenta che sui giornali questo servizio sia stato così cioè sia uscito in questa maniera così eclatante però dico do ragione non mi ricordo chi lo diceva prima stiamo parlando di una cosa che non è assolutamente straordinaria assolutamente il giornale i giornali davano lo spazzamento meccanizzato come come un servizio che la RAP fa per la prima volta eh in tutta la sua diciamo in tutta la sua vita sappiamo benissimo lo spazzamento meccanizzato è nato veramente vent'anni fa poi eh e devo dire che ha avuto aveva aveva dei degli ottimi risultati certo parliamo di un altro periodo la città sicuramente era più gestibile c'erano molte più persone alla RAP e quindi anche questo servizio poteva funzionare meglio oggi siamo in una situazione completamente diversa ma sempre di spazzamento meccanizzato parliamo e tra l'altro è importante dire che noi già adesso facciamo spazzamento meccanizzato perché dico eh sia di mattina e di pomeriggio ne abbiamo le spazzatrici che stanno in giro a Palermo eh al centro storico nel percorso arabo normanno questa l'unica novità che c'è in questo momento è che stiamo tornando un attimo al passato per quanto riguarda le zone rimozione perché lo spazzamento meccanizzato che fino adesso c'è da una da che vi posso dire cinque sei anni ormai il RAP fa fa non veniva fatto cioè non viene effettuato con l'aiuto da parte dell'amat e quindi della polizia municipale per la sistemazione delle zone rimozione e dei cartelli eh ma senza nessun tipo diciamo nessun tipo diciamo di divieto per le per i cittadini si sta ritornando questa è l'unica novità perché di spazzamento meccanizzato non c'è nessuna novità si sta tornando indietro meno male fortunatamente eh come si faceva venti anni fa cioè con le zone rimozione in maniera tale che la spazzatrice possa lavorare al meglio su quelli che sono gli assi stradali ovviamente questo non significa che voglio rispondere alla consigliera che poco fa è intervenuta non è che lo spazzamento meccanizzato andrà a pulire o andrà a risolvere i problemi che c'ha la città di Palermo eh in campo di rifiuti ingombranti o in campo di abbandoni quello è tutt'altra cosa ok parliamo di servizi completamente differenti ok una cosa sono i rifiuti ingombranti una cosa è la migrazione dei rifiuti una cosa sono le discariche una cosa il porta a porta e gli abbandoni che c'ha nel suo interno questo è soltanto un servizio di spazzamento a tutti gli effetti invece di essere fatto manualmente viene fatto meccanicamente invece di essere fatto con le macchine posteggiate viene fatto senza diciamo nessuna macchina posteggiata si spera che la risposta dei paermitani sia eh positiva e per cui eh scusate mi interrompo perché mi sta facendo venire una mi è sorto una domanda eh le richiedo scusa dal momento in cui eh vengono tutte le macchine eh le spazzatrici vengono utilizzate con l'ausilio di un operatore che comunque eh porta la la spazzatura sotto il marciapiede o no? Assolutamente ci sono casi in cui verrà fatto così casi in cui non è necessario ora questo ve lo esporrà meglio Gianni Acquaviva ci saranno e dico le tipologie sono tante fortunatamente a seconda del quartiere a seconda delle strade però io dico sto facendo questo intervento perché ci tenevo a chiarire che stiamo parlando di un servizio particolare di spazzamento che stiamo cercando di mettere in campo per ridare a ad alcune strade paermitani un decoro maggiore e anche diciamo un respiro maggiore perché ovviamente spazzare una strada senza eh i mezzi parcheggiati è tutt'altra cosa senza avere il problema di chiamare la persona che ha che ha posteggiato in seconda fila senza avere il problema con le persone che non spostano le macchine e se ne fregano dei lavori degli spazzini in questa maniera dovremmo essere tutti più tranquilli e quindi obiettivamente le strade dovrebbero essere più pulite ma niente a che vedere con nessun'altra cosa di cui parlava il la consigliera poco fa ok che non vorrei che poi magari si dicesse ah ma la RAP ha iniziato a spazzamento nel canizzato e le strade ancora hanno i cumuli dei rifiuti io normalmente sono abituata a essere chiara ma infatti dottoressa lei mi ha franteso però dico sicuramente questa diciamo rimozione delle macchine come ha detto lei eccetera è una cosa che tra virgolette non si fa quotidianamente perché quotidianamente passano diciamo assolutamente non si fa proprio metto metanico di giorno quando appunto lei dice ci sono i pedoni c'è la doppia fila quindi in questo sta diciamo la straordinarità ma non nel senso che è straordinario nel senso che è una cosa che si sta attuando con metodologie e tempistiche diverse dal solito esattamente esattamente perfetto ok a questo punto cedo la parola a Gianni Azzoliva che vi spiegherà nel dettaglio Presidente Presidente scusami se se non è più indispensabile la mia presenza per l'ufficio rimane l'ingegnere di gangio ovviamente per i dettagli eventualmente sulle ordinanze prima che lei va via le volevamo rubare una promessa al sessore dimmi dimmi Gianluca prego quando quando parte perché parlavamo di settembre ma settembre quando no no ovviamente non dipende da me questo quindi la promessa non potrai strapparla a me eh in questo momento eh ripeto io ho fatto i subito prima dell'ordinanza la riunione con Amat per il posizionamento della segnaletica Amat l'ha messo in priorità quindi già dalla prossima settimana comincerà a posizionare la segnaletica a quel punto dipenderà dall'azione di coordinamento con polizia municipale e con quindi ci sarà un'altra riunione ma che non sarà più coordinata da me mi spiego cioè io ho coordinato la riunione fino a quando avevo i rapporti funzionali con la RAP adesso quindi eh penso che sarà direttamente il RAP a comunicare quando è in grado di partire e sarà stabilito il servizio sia di polizia municipale che di che di che di che di Amat per la rimozione quindi le tappe sono questo primo posizionare la segnaletica e già Amat mi ha rassicurato che dalla prossima settimana metteranno la segnaletica quando sarà posizionata la segnaletica quando sarà posizionata la segnaletica RAP comunicherà quando è in grado di cominciare con anche lì domani presumo diciamo con eh con gli itinerari e a quel punto quando RAP farà la comunicazione eh polizia municipale e Amat organizzeranno il servizio non c'è bisogno di un'altra riunione perché già le riunioni propedeutiche le abbiamo fatte quando RAP comunicherà che è pronto a comunicare Amat e polizia municipale si attrezzeranno per per far rispettare l'ordinanza quindi quindi diciamo sembra da quello che dice mi quindi non c'è alcuna promessa diciamo no però dico sempre diciamo lei siccome come sempre è molto chiaro dico sempre che ovviamente l'ordinanza poteva essere emessa eh un minuto dopo un minuto ma avremmo fatto carta invece di fare carta bisogna fare atti concreti e quindi eh adesso la polizia municipale e Amat sono allertati per 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 rendere esecutiva l'ordinanza ed efficace una domanda scontata all'assessore Catania presidente una domanda è scontata comunque la voglio fare lo stesso questa segnaletica è come quella dei mercatini dove si mette dal verdi dalle nove alle dieci non posteggia è fissa e deve essere a perenne giusto? esatto bravissimo consigliere no 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 è così è così è così è una una segnaletica ad orari e a giorni grazie assessore grazie va bene grazie per qualsiasi per qualsiasi dettaglio tecnico ovviamente diciamo rimaniamo però credo che diciamo su dettagli sull'ordinanza saluto tutti ringrazio saluto acqua viva approfitto che lo vedo che devo dire la verità ragione la dottoressa Calia si è speso moltissimo ora come vent'anni fa perché grazie me lo ricordo pure vent'anni fa che si era speso per fare il il lo spazzamento meccanizzato con divieti di sosta e purtroppo lo potrà confermare anche lui vent'anni fa era molto più facile perché avevamo molti più vigili urbani avevamo un servizio di rimozione automobili molto più efficiente e quindi diciamo ci siamo fatti carico delle difficoltà e anche acqua viva nell'organizzare gli itinerari si è fatto carico delle delle difficoltà per attuarli gli itinerari va bene se non ci sono altre domande io vi saluto e vi ringrazio grazie 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 arrivederci arrivederci buongiorno è un piacere vederla anche la videoregistrazione buongiorno presidente autorizzo grazie prego buongiorno presidente consiglieri presenti e allora sono a vostra disposizione no più che altro se lei ci dà neanche per per iniziare con le domande che magari possono essere buone parto con un intervento naturalmente l'assessore catania prima di andare via nel suo intervento ha esplicitato il percorso di questo piano naturalmente partito già nel 2019 aggiungo ma è stato molto dettagliato aggiungo che il piano presentato da rap relativamente allo spazzamento meccanizzato con zona rimozione che noi definiamo nei nostri rapporti di tipologia 4 era un piano che prevedeva 20 itinerari 20 itinerari complessivi 10 erano relativi alla circoscrizione all'ottava circoscrizione gli altri 10 erano relativi a itinerari che comprendevano le rimanenti circoscrizioni ed erano due per circoscrizione rimanenti quindi due alla seconda circoscrizione due alla terza circoscrizione due alla quarta della quinta due alla sesta e e settima ed eccezione naturalmente è stato fatto proprio tecnicamente di proposito non interessare la prima circoscrizione perché la prima circoscrizione naturalmente da un lato non ha nessuna motivazione tecnicamente di essere attuato un piano di spazzamento meccanizzato con zona rimozioni e poi anche perché la prima circoscrizione è interessata già giustamente anche come ha sottolineato la dottoressa Calì ieri per i neofiti che naturalmente leggerono gli articoli giornali è come se nel mese di settembre per la prima volta rap partirà con servizi di spazzamento e utilizzando spazzatrici no già noi utilizziamo naturalmente questa direttiva di spazzamento meccanizzato in itinere basta ricordare ecco quando parlavo della prima circoscrizione che non viene interessata questa tipologia di servizio è perché giornalmente all'interno del centro storico che è relativo di specifico che denominato è tipologia 1 noi abbiamo le cosiddette mini spazzatrici che lavorano proprio negli assi di aria faccio un esempio così ci capiamo tutti un momentino in via loro all'interno dell'area pedonale del percorso Vittorio Emanuele eccetera eccetera soprattutto in quei siti dove non c'è sono soprattutto senza marciapiede e quindi di conseguenza l'operatore che è il conduttore che guida la spazzatrice o la mini spazzatrice può agire da solo in alcuni siti tipo il corso Vittorio Emanuele che magari è del marciapiede agisce con supporto dell'operatore che di reparto già assegnato come spazzamento manuale ma facendo un passo indietro e tornando alla nuova ordinanza dicevo che i itinerari che avevamo preparato erano venti dopo diverse riunioni fatte con proficue in sinergia con il comando dei vigi urbani amat e quant'altro che erano diciamo amministrazioni interessate per la partenza di di questo piano si è deciso di partire inizialmente con i 10 itinerari che interessano l'ottava circoscrizione per poi proseguire io spero al più presto e con gli altri 10 itinerari che quando si ottenerà dopo canzi e abbracciano tutto il resto delle circoscrizioni che in questo momento non sono interessate da questa tipologia di servizio se volete mi fermo qui e aspetto qualche cosa oppure non lo so nel frattempo prego questo servizio che diciamo dalle parole della sore catania comunque mi sembra di intuire che non ormai siamo agli sgoccioli ma nel frattempo il servizio di spazzamento nelle periferie come viene affettuato e se viene affettuato e allora in atto noi abbiamo servizi anche nelle sedi periferiche con con ausilio di spazzatrice faccio degli esempi banali noi per esempio l'asse centrale di regione siciliana la circonvallazione così denominata nella corsia di emergenza e attuiamo una frequenza bisettimanale questa fa parte della tipologia 1 perché non c'è bisogno di operatore a seguito ma addirittura non perché è successo l'alluvione ma bensì con precedenza esperienze ogni tanto l'esperienza aiuta addirittura anche se nel nostro piano ebbi settimanale addirittura viene effettuato a livello a giorni alterni questa tipologia di servizio e ripeto sottolineo anche se ci sono passato tre giorni lì dopo l'alluvione lì sotto proprio quindi di conseguenza non perché è successo l'alluvione ma è proprio da una frequenza da quando vent'anni fa come ricordava l'assessore catania c'era questa come si sol dire incarico dato al comando dei vigili urmani a me personalmente ancora mantengo questo pezzo di carta proprio perché è giusto che venga mantenuta la pulizia nei tombini e nei tutti i sottopassi della circonvallazione poi ci sono come ricordavo poco fa due spazzatrici piccoli che lavorano nel centro storico e poi settimanalmente cerchiamo di intervenire in alcuni quartieri abbiamo degli itinerari faccio un esempio itinerario basile no che abbraccia qui le frequenze magari non non sono rispettate rispetto al piano due volte alla settimana l'itinerario di basile che considerate che l'itinerario basile è formato naturalmente da l'onesto basile e da tramerse limitrofe da strade limitrofe e zona brancaccio per esempio nella zona brancaccio che di norma faccio effettuare nell'ultimo periodo di notte il famoso chiamato itinerario 18 è quello che abbraccia con una spazzatrice perché in notturno noi abbiamo in atto due spazzatrici fisse che lavorano su l'asse roma e viene fatto ogni sera naturalmente l'asse roma per intenderci è il percorso che una volta era chiamavamo quadrilatero perché abbracciava tutto via roma naturalmente via cavur naturalmente il piazza castelnuovo e poi ritornava sul ruggiero settimo macqueta naturalmente depende che ci sono queste aree pedonali e naturalmente questi lavori che sono in corso naturalmente abbiamo cercato di sopperire alla sostituendo alcune strade rispetto a quelli che erano previste nelle itinerari ufficiali stavo parlando infatti le volevo chiedere una cosa dico ovviamente dico lei mi conosce benissimo non è assolutamente polemica perché io non ho mai fatto mistero della stima che ho nei tuoi confronti noi ci chiamiamo del tuo normalmente nei confronti di Lara grazie che l'ho pure diciamo più volte menzionata in consiglio comunale proprio perché ritengo che il rap se ci fossero altre quattro persone come Lara probabilmente l'azienda diciamo sarebbe in una situazione molto diversa da quella in cui versa e quindi ci tenevo a dire questo proprio perché non vorrei che la mia intervento fosse frainteso con che lungi da me fare polemica soprattutto con voi che ripeto ho grande stima e so quanto lavorate e quanto siete veramente avete questo senso di abnegazione nei confronti dell'azienda facciamo semplicemente il nostro dovere voi fate più del vostro dovere perché se facevate il vostro dovere non avrei speso queste parole siccome ho avuto contezza dal fatto che voi fate più del vostro dovere perché la dottoressa Calì quando alle quattro di notte si trova in giro per la città non sta facendo il suo dovere detto questo vorrei capire dal momento in cui siccome abbiamo noi diverse zone della città dove non è assolutamente previsto il servizio di spazzamento o se è previsto non viene effettuato ci sono zone in cui l'operatore è assegnato a quella quell'itinerario a quel percorso zone in cui ovviamente andiamo sempre diciamo a gestire le emergenze che voi cercate di gestire nel miglior modo possibile il la partenza di questo servizio di spazzamento meccanizzato che come ho detto poco anzi all'assessore a mio avviso diciamo già stiamo partendo in delle aree comunque non versano in condizioni proprio disastrose ma diciamo qua effettivamente le queste strade sono abbastanza pulite rispetto al resto della città perché comunque spesso io ho visto l'operatore lì su queste strade che che spazza quindi al momento in cui noi inseriamo questo servizio di spazzamento questi operatori che eh insistono in queste strade potremmo utilizzarle o è previsto già di utilizzarle nelle strade periferiche dove in realtà il servizio è totalmente assente? Posso rispondere? Prego. E allora diciamo che il il pensiero quando abbiamo deciso complessivamente di scegliere qua con quali itinerari partire era proprio perché le tipologie di naturalmente di itinerari di spazzamento con il consesso manuale che è meccanizzato hanno una suddivisione ben precisa nella città di Palermo. Eh la penuria chiamiamola così eh di cui siete tutti a conoscenza di operatori negli ultimi cinque anni addirittura eh si è dimezzato il numero degli operatori che erano addetti allo spazzamento manuale eh naturalmente una una cosa che era dovuta partenza del differenziata porta a porta eh gente in pensione eccetera eccetera questo sottolineatura sottolineatura una sottolineatura molto intelligente è dovuta al fatto proprio che noi soprattutto nella nell'area centrale tendersi alla sede di strade che abbraccia tutte le aree via San Martino via ventisettembre via Villa Franca che dico non ci dobbiamo nascondere che sono le le strade più battute dalla città di Palermo con questa compensazione sfruttando questi itinerari di spazzamento meccanizzato noi vorremmo attuare con più forza interventi che vengono fatti come sottolineava lei presidente all'interno delle strade periferiche faccio un esempio banale ieri mattina quindi lontano dal che di norma quando uno vuole fare il giochino lo fa nella stessa giornata se c'è una riunione eccetera eccetera ma ieri mattina ecco intervento che noi non facciamo naturalmente settimanalmente ma ogni due settimane viene effettuato abbiamo fatto un grosso intervento con l'ausilio di spazzatrice ed operatori nell'area che va dal vivo di acqua dei corsari siamo arrivati in via l'audicina naturalmente facendo tutta la via Messina Marina dove effettivamente non c'è nemmeno bisogno di zona rimozione anche perché dobbiamo dobbiamo evidenziare che ehm la zona rimozione darà qualche problema all'utenza cittadina attenzione eh quindi noi dobbiamo cercare di effettuare nel miglior modo possibile i nostri servizi rendere la città leggermente più pulita di adesso ma ma naturalmente cercare e creare meno disagio possibile all'utenza alla cittadinanza dico anche perché l'esperienza ci insegna di venticinque anni fa quando siamo partiti nel quartiere nove dieci che sarebbe bene o male l'attuale ottava circoscrizione andava tutta la grande prima giornata duecento due macchine prelevate tra via Crispi e qualche altra cosa però eravamo arrivati che si prelevavano soltanto cinque macchine a sera quando ci siamo spostati invece sulla zona di Corso dei Mille eh via Ingrassia via Antonio Ugo eccetera eccetera è stato proprio un un suicidio completo e quindi di conseguenza l'allora amministrazione gestita dall'attuale sindaco ha ritenuto opportuno che eh si dovesse ritornare indietro purtroppo sia in quella in quella zona che anche in quella dove che funzionava che era quella del quartiere nove dieci non so se sono ancora in linea sì vado tranquillo è in linea sono in linea sì buongiorno buongiorno amico Giovanni buongiorno sì 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 ritornando a quel discorso naturalmente giusta l'osservazione del presidente eh stiamo facendo in maniera natale di aumentare naturalmente i ritmi di interventi anche senza eh zona rimozione né di itinerari che erano all'interno del piano presentato quindi per intenderci eh io spero di attuarlo in maniera settimanale come c'era eh prescritto nel 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 piano presentato inizialmente quindi per intenderci vi posso anche anticipare non so se voi perché naturalmente voi dall'ordinanza guardate soltanto l'itinerare della ottava circoscrizione che partiranno ufficialmente entro il mese di settembre ma vi posso accennare che gli altri dieci itinerari erano uno era un itinerario ponte a miraglio potete capire diciamo la la zona qual è una era in via Galletti e tutte e due facevano parte della seconda circoscrizione la uno era a Bonagia e a Passomiere che naturalmente interessavano la terza circoscrizione uno era al villaggio Santa Rosalia uno era a sulla zona di via Castellana e via Leonardo da Vinci e poi l'altra Michelangelo Brunelleschi naturalmente sono questi quattro ultimi che ho riscontrato c'è qualche cosa al telefono può essere che non non sono ancora in linea? No sei in linea sono in linea in linea Gianni e naturalmente l'altro è sulla zona di Mondello dove sul Mondello Mondello anche lì noi abbiamo interventi tipo da prima circostrizione dove la frequenza di Mondello e Sferre Cavallo naturalmente deve essere giornaliera per motivi per motivi ovvi. Gianni una domanda che non riguarda lo spazzamento ma riguarda sempre il decoro delle strade che è il diserbo. Sì. Mi puoi diciamo fare di nuovo il punto della situazione con questo rapporto con il rapporto che si ha con Reset perché tempo fa avevo chiamato per fare un diserbo su un ora adesso non mi ricordo più la strada qual era ma c'erano a quanto pare dei problemi che forse il servizio era sospeso cioè lo stato dell'arte qual è allo stato attuale? La RAP si occupa di fare sotto il marciapiede la Reset sotto il marciapiede o diciamo siamo fermi per ora? Qual è la situazione? Allora innanzitutto puntualizzo la contratto di servizio i nostri servizi di serbo sono su un manto stradale e su marciapiede pavimentato tutto quello che riguarda aiuole, sparti traffico, cercini dove in poche parole c'è terreno non è di competenza RAP chiuso questa precisazione e di competenza di Reset attualmente questo servizio? Tutto quello che non ti ho detto Gianluca c'è nel senso che se tu mi dici c'è la aiuola c'è lo spartitraffico e naturalmente dove non c'è manto stradale pavimentato eccetera eccetera ma è sempre stato così da da contratto di servizio. No no la mia domanda no scusami la mia domanda è un'altra. Dica attualmente la Reset però sta operando perché c'era un problema. Stavo completando infatti ti stavo dicendo che da un paio di mesi abbiamo ripreso nuovamente le attività con Reset naturalmente demandando mensilmente noi il piano dove che devono intervenire quindi loro intervengono su nostra indicazione su determinate strade e naturalmente abbiamo fatto in maniera tale purtroppo togliendo naturalmente elementi da quelli che sono personale addetto allo spazzamento anche se era previsto nel piano complessivo e effettuando degli interventi di emergenza e di 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 interventi su manifestazione eccetera eccetera anche con nostre squadre eh rap naturalmente e quindi si è ripresa l'attività diciamo di di serbo demandata alla Reset. Dico faccio un esempio banale eh via Conte Federico dovrebbe essere a questo punto già definita che l'avevamo lasciata a metà faccio dico un esempio banale che vale per tutti giusto? Spero che già l'abbiano l'abbiano definito il il i colleghi della Reset. Via Conte Federico dove si trova dottor Accoio? Non non ho sentito bene. Dove si trova via Conte Federico? Dico spero che via Conte Federico il dove è? In quale circoscrizione è via Conte Federico? Seconda circoscrizione. Ah sì. No dico spero che l'abbiano definito perché ne avevano fatto una parte e poi io mh naturalmente siccome non non parlo mai male delle altre persone ma per motivi naturalmente condigentati che naturalmente ci sono stati che abbiamo percorso tutti a quest'ora credo che l'abbiano definito tutto. Dico ho fatto un esempio questo per dire tanti altri. L'altro ieri per esempio il vice sindaco mi sottolineava via Messina Marina che è demandata già dal mese scorsa a Reset e l'altro ieri ho incominciato via Ponte di Mare con una squadra rappe che diciamo è il come si suol dire il biglietto da visita perché si sta avvenendo eh da fuori Palermo da da quel lato. Quindi la via Ponte di Mare è stata fatta da una squadra rappe proprio fino ad arrivare eh a Piazza Sant'Erasmo. Segue. Cerchiamo di lavorare in maniera sinergica il miglior modo possibile. Certo non non siamo eccezionali però. Scusate se interrompo. Io ho necessità di lasciare la seduta. Ringrazio tutti e a presto. Buona giornata. Grazie. Grazie consigliare Cancillo. Eh dottora Quiva se non vuoi aggiungere nient'altro diamo la parola al dottore Di Canci eh che magari sicuramente vorrà integrare qualcosa sull'ordinanza o comunque spiegarci qualche ulteriore cosa se ovviamente ne ha ne ha facoltà se vuole. Assolutamente sì io ho finito rimango in attesa non posso fare che aggiungere. Ovviamente i colleghi qualora volessero intervenire sono liberi di farlo. Non non c'è nessun problema. Dario e Dario Tony o Katia Carlo. Se dovete integrare dovete fare qualche domanda al dottore Acquaviva prima di passare la parola al dottore Di Canci eh fatelo. Sembra che non ci siano domande. Prego dottore Di Canci. Sì buongiorno presidente grazie. Eh quindi no niente diciamo è stato già detto tutto sull'ordinanza aggiungo eh che l'iter che potete leggere in premessa appunto è cominciato al mese novembre poi sono state le riunioni sia a dicembre che a gennaio e a febbraio eh che appunto come diceva ehm diciamo il ehm ehm acquaviva della 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 RAP nelle riunioni è stato deciso di cominciare ovviamente si può fare solo per step eh quindi avviare questo diciamo un percorso molto complesso che vede l'interazione sia della RAP dell'AMAT che della pulizia municipale ehm e che del servizio sia mobilità e ambiente che appunto sono stati coinvolti in queste quattro cinque riunioni che sono stati diciamo preliminarmente poi eh purtroppo alla al diciamo all'avvio di questa emergenza sanitaria che un pochettino ha rallentato tutto il processo. Quindi l'ordinanza il 26 agosto ehm ovviamente eh questa istituzione di rimozione eh diciamo eh in alcune vie eh nelle case cittadine secondo il cronoprogramma e quindi secondo eh gli itinerari eh concertati con con la RAP eh vedono ovviamente l'intervento di RAP per la segnaletica io non so siccome chiedevo consigliere voleva sapere un pochettino quali erano le le la segnaletiche da utilizzare se volete un esempio posso presentarlo ma insomma penso che lo conosciamo già abbastanza tutti i due pannelli sia quello verticale che quello integrativo e appunto di zona rimozione ehm per lo spazzamento in questi dieci itinerari ehm se per il concetto con con le aziende partecipate ehm quindi mi sembra che è stato già detto già tutto non so se avete delle domande specifiche in merito? No diciamo in realtà è stato tutto la tua presenza era di pezza a seguito del fatto che comunque non era stato ovviamente emanata nessuna ordinanza quando noi abbiamo incontrato il direttore generale e quindi ovviamente era necessario averla qui per capire quali fossero i motivi. Devo dirle che eh non dovrei essere io a farlo ma a diciamo che non è diciamo che non è diciamo tollerabile il fatto che si sia si sia impiegato tutto questo tempo quindi come diceva l'assessore poco fa emergenza covid probabilmente diciamo si andava a vanificare tutto un lavoro eh che magari non non partiva col piede del giusto eccetera eccetera dico è inutile ricriminare quello che è stato fatto io siccome sono sempre propositivo eh do per buono ovviamente e non non faccio nessun tipo di polemica né nei suoi confronti né nei confronti dell'assessore che l'ha preceduto eh mi auguro ovviamente perché eh il mio spirito appunto è sempre propositivo mi auguro ovviamente che dal momento in cui è stata fatta questa prima ordinanza ovviamente la parla passerà adesso ad Amat e di conseguenza a RAP alla Polizia Municipale ovviamente eh la strada diciamo è eh tracciata quindi mi auguro che le prossime ordinanze che eh spero che arrivino si possano fare nel più breve tempo possibile che si possano fare diciamo nel più breve tempo possibile non eh richiedano così tanto tempo perché eh l'assessore Catania poi anzi ha detto nel duemiladiciassetto non c'ero io non c'era il dottore Di Gangi ma c'era comunque il sindaco Orlando e c'eravamo tutti noi eh eh la città è stanca di di sentire non c'ero io c'era un altro eh abbiamo tutti delle responsabilità capisco che ovviamente non mi posso prendere le responsabilità che non attenevano alla mia persona in quel momento ma diciamo dobbiamo cercare noi di affrontare i problemi col colpiglio giusto che è quello chiunque eh c'era in quel momento a noi non interessa ma da questo momento le cose si fanno eh io sono ottimista spero ovviamente che da questo momento si possa intraprendere un'azione diversa e sicuramente più diciamo eh energica eh e sinergica con con gli altri uffici e con gli altri attori interessati. Eh detto questo se non ci sono altri interventi da parte dei colleghi io vi ringrazio eh vi vi lascio al vostro lavoro eh è stato un piacere incontrarvi soprattutto incontrarvi il dottor Acquaviva eh che non vedevo da tanto tempo la dottoressa Calì eh vi auguro un buon lavoro e grazie per il tempo che ci avete dedicato a noi e alla città. Grazie. 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 Grazie a una buona giornata. Grazie. Noi rimaniamo collegati e facciamo un attimo appunto la situazione. Sì vabbè. Eh noi eh lunedì abbiamo il sopralluogo con eh al cimitero giusto? Sì mi sembra di sì che sia questo il cronoprogramma. Quindi eh tra altre cose è uscito pure un un articolo forse sulle pubbliche che a quanto pare eh parlavano del cimitero di quasi cinquecento salma a deposito eh chiedo al segretario se per caso la dottoressa rimedio che è in ferie eh lo sappiamo tutti ma alla quale avevamo strappato la promessa di inviarci una relazione a seguito della dell'incontro del ventisei produttore pollicite con alcuni imprenditori se per caso questa relazione fosse arrivata eh magari è arrivata lei viene girata ma io non me ne sono accorto quindi eh volevo avere contezze di questo se per caso fosse arrivato o meno eh e se non è arrivato ovviamente eventualmente la collettiviamo ad inviarci una copia eh possibilmente in giornata in maniera tale che quando unedì andiamo al cimitero abbiamo confezza di quello che probabilmente dovrebbe avvenire. Eh no presidente come lei giustamente ha intuito la dottoressa primedio non ha mandato niente quindi posso fare forse conviene che la chiamo telefonicamente perché credo che lei era in ferie fino al giorno 31 il 26 si collegava la dottoressa arrivati in ferie. Visti i rapporti che ho la chiamo telefonicamente per capire se per caso c'è un eh un verbale che hanno fatto il giorno 26. E se ce ne puoi andare a copia con la dottoressa. D'accordo io vorrei soltanto ricordarvi sul eh la nuova proposta di liberazione pervenuta in commissione di cui le presidenze ha dato disposizione di fare l'ordine successivo. Eh è una proposta di liberazione che ripeti carattere d'urgenza quindi credo che massimo martedì per rientrare nei cinque giorni la commissione dovrebbe esprimere parere. Dico non lo dico soltanto per una questione tecnica. Quindi dobbiamo esprimere il parere entro quando? Entro cinque giorni dal giorno 27 perché il 26. E quando scadono cinque giorni? E scadono 30, 31, 1. Giorno 1. 1. Quindi? Eh no giorno 1 e signor parere. A di parte il presidente lo so che stiamo in tempo. Lo sto dicendo per dire signori guardate che abbiamo questa anche incombenza da fare. Giorno 1 alle 9.30 ci colleghiamo e spieghiamo parere su questo su questa deriva. Eh colleghi eh ci sono interventi da parte da parte di qualcuno? Dal vostro silenzio intuisco che non ci sono interventi quindi eh se il verbale è pronto lo volevo dirlo o segretario lo prego di darne lettura per passare all'approvazione. Non è pronto non è ultimato quindi se è possibile farlo la prossima seduta. Lo approviamo alla prossima seduta utile allora. Colleghi vi auguro una buona giornata eh ci vediamo lunedì mattina siamo rimasti alle 9.30 giusto? Sì sul posto giusto presidente confermiamocelo sul posto perché io ecco perfetto perché ho fatto la comunicazione della presidenza. A lunedì allora arrivederci. Interrompo la registrazione. Colleghi scusate sto pensando una cosa ma eh per qualcuno di voi sarebbe più comodo alle 10.30? Eh dunque sì tendenzialmente sì eh sono personalmente devo capire come 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 fare però tra le due tra i due orari dieci e mezza senz'altro meglio. Ma non vi voglio vincolare eh Gianluca perché io devo sistemare. Lo sto chiedendo o perché eh per me alle 10.30 sarebbe pure meglio. Quindi se per te eh è più comodo e per gli altri è più comodo per me va benissimo alle 10.30. Se ovviamente è comodo solo per me mi adeguo agli altri come eh Carlo 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 va bene lo decidiamo poi sì sì infatti ok una buona giornata. Allora alle 10.52 chiudiamo la seduta. Grazie e buona giornata a tutti. Arrivederci ciao ciao.